Questo progetto fatto da tutte le parti, c'è un sistema naturalistico che la naturalista non ha visto, per cui ha incaricato la dottoressa Cavagnini, che è una persona preparata, splendida, che ho piacere di conoscere. Allora, lei deve dire da un punto di vista politico, se lei la vuole, sta centrale per tutto il suo popolo, non vi. Non te lo dice, non te lo dice. Non te lo dico, 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 e farò in tutti i modi accoggerò questa iniziativa. E non devi dire, se no, in alternativa, come l'ho già detto prima, le dice tu, c'è un asset del nerd che ha delle portate 20 volte, 50 volte più importanti, accomodiamo questa azienda, facciamo una beca centrale seria, non andiamo a toccare un rio che sei, sette mesi all'anno senza acqua. Per polizia, se non si vede, sicilia lo dica, se la vuole, lo dica, non sono loro cittadini! una risposta politica risposta è la stessa è la stessa non siamo contrari all'eropio generale è stato invadito su questo c'è una particolare attenzione c'è una particolare presa di consapevolezza della carità e c'è tutto l'impegno da parte dell'amministrazione per analizzare il progetto in quelle che sono le sue palle in quelli che sono i suoi limiti per evidenziare il per il si o no 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 ma c'è una popolazione docce o si o no 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 no